cari amici montanari bentornati sul canale oggi siamo a malta precisamente a meglia faremo un'escursione di circa 10 chilometri costa a costa guardando il mare la costa malta e buona strada le moro a cennaio ovviamente questa escursione non esiste l'ho creata da comut e siamo in mezzo ai campi maltesi con i moretti a secco tipici del posto in mezzo ai figarazzi saremmo potuti partire direttamente dal mare ma così avremmo evitato in mente secco i campetti coltivati di meglia invece così ci hanno fatto l'experience completa e adesso andiamo sull'asfalto che palle per arrivare al mare e alla costa so se senti però da qui si potrebbe scendere lungo questo bel sentierino fino a lì che sembra fighissimo il fatto è che poi che si fa là si torna indietro si prosegue ci si arrampica quindi dividiamo e saliamo da lì sempre di più capisco che io sono attratto dalla natura in generale da questi paesaggi fighi non dalla montagna in sé dalle cose fighe cioè pure che pure un deserto va benissimo basta che sia figo buongiorno andiamo all'isola di malta e andiamo lungo le coste di malta ma lei cosa fa che fa il cacciatore si si spara si si professava così tanto ambientalista e poi sta qui a sparare gli uccelli si vergogni si vergogna l'obiettivo era andare a spugnare questa torre qui ma il quartiere ci dice di non attraversare perché è privato allora dice andare a destra a sinistra a sinistra c'è la strada non ci piace destra ci sono le scogliere a picco e andiamo alle scogliere a picco oppure guarda che spazzacolo ha scaricato tutti i sentieri su Google in più generalmente inquadrando questo bel QR code vengono scaricate tutte le informazioni su quest'area questo mini parco naturale con i sentieri ed i punti di interesse dove cliccandoci ti esce pure una descrizione ci mostri? come puoi vedere qui si deve andare lì ma arriviamo un po' più a destra andiamo ancora più avanti e poi finiamo al parcheggio mostri il parcheggio più avanti quindi lì quindi seguiamo l'indicazione e andiamo a destra perché ok esplorare e fare cose strane però c'è ti dicono di fare una cosa falla giusto? i passivi e e andiamo a dire lui ha mangiato i pastizi Maltesi, ora si risale dove sono scesi, lo stumetto è secco gigante e andiamo lì e basta Tutto molto bello però spuntano a fine percorso questi brutti palazzoni Tornati alla civiltà, anche troppo E basta, oggi andiamo a prendere da un bolt, io sono in bolt, quindi torniamo a balletta Grazie a tutti